Buona giornata, davvero un benvenuto a tutti, vi ringrazio singolarmente per le associazioni che rappresentate e per la vostra presenza. Ringrazio in particolare il nuovo assessore regionale al turismo Andrea Corsini e tramite lui voglio salutare insieme a voi la nuova giunta regionale. Insieme al Presidente Stefano Bonaccini hanno un importante compito di affrontare una fase di rinnovamento e di crescita della nostra regione che richiede a tutti noi coraggio e capacità di innovazione. Naturalmente il mio saluto va anche al Ministro dei beni culturali del turismo Dario Franceschini che come sapete ci raggiungerà nel corso dei nostri lavori. Voglio solo sottolineare che con il Ministro fin dal suo insediamento abbiamo condiviso un impegno reciproco per la cultura, in particolare per la cultura del contemporaneo, per la promozione del patrimonio e il riassetto delle istituzioni culturali. Nel Ministro Franceschini stiamo trovando un interlocutore attento come da anni, mi permetto di dire, non si vedeva nel panorama governativo della cultura. Oggi soprattutto ci occupiamo di turismo, sappiamo che il turismo è uno dei settori maggiormente in crescita a livello mondiale, capace di offrire nuove opportunità di lavoro e una diversa percezione dei nostri territori e delle nostre comunità. Voglio sottolineare, perché tutti ce lo riconoscono, che negli ultimi tre anni Bologna da questo punto di vista è riuscita a fare un salto importante anche nel campo turistico, non solamente perché le vie del centro sono piene di visitatori stranieri e perché è sempre un numero più importante di riviste internazionali raccontano la nostra città, ma perché il turismo è diventato un segmento importante della nostra economia come mai prima d'ora, a livello locale, nella nostra città, nella nostra regione, ma a livello nazionale. Oggi ne abbiamo consapevolezza nelle istituzioni tanto quanto nel mondo economico e nei giornali locali. Le presenze nel comune capoluogo crescono a ritmi costanti più 5% in più ogni anno, più 16% tra i visitatori stranieri. A questo convegno è per noi importante, non tanto e non solo per rivendicare le accresciute capacità della città nel campo dell'attrazione turistica, ma per ribadire che Bologna è al servizio del sistema urbano regionale, che ne è la porta d'accesso, che la città metropolitana che sta nascendo è al servizio di questa prospettiva e quindi la scelta di copromuovere, coprogrammare le nostre politiche turistiche oggi trova un primo significativo esempio nel fatto che abbiamo promosso questo appuntamento insieme alla città di Ferrara e abbiamo invitato a interroquire con noi tutte le altre città della regione e ringrazio tutti i rappresentanti istituzionali di queste città presenti. Noi vogliamo lavorare per comprendere insieme come mettere a disposizione le infrastrutture e le relazioni internazionali di Bologna metropolitana nel sistema urbano della nostra regione. Voi mi insegnate che la globalizzazione si accompagna alla localizzazione e questo comporta il ridisegno delle mappe territoriali, la riscoperta di nuove geografie del lavoro e una ritestitura della nostra comunità regionale. Insieme a questo processo che investe tutte le regioni e le città del nostro paese, della nostra Europa, in specifico nella nostra realtà italiana si è aperta una nuova stagione di riforme istituzionali grazie all'iniziativa del governo, la riforma del titolo quinto della Costituzione e la nascita delle nuove città metropolitane debbono essere l'occasione per ridefinire con chiarezza gli ambiti di azione delle nuove regioni, in particolare della nostra, lavorando per una sempre maggiore distinzione fra compiti di legislazione e programmazione che sempre più e con più efficacia devono saper svolgere la nostra regione e le attività di gestione che a nostro avviso sempre nell'ambito di una verifica della dimensione ottimale e della proprietezza devono essere attribuite ai comuni e alle loro forme associate. Quando parliamo anche e soprattutto di turismo in Emilia-Romagna io credo avremo una consapevolezza comune, dobbiamo cominciare a strutturare con più decisione una politica industriale per il turismo e a guardare a questo settore lungo tutta la sua filiera produttiva, dagli investimenti per la ricerca e sviluppo, agli strumenti per l'aggregazione di impresa, all'innovazione di prodotto e processo fino alla promo commercializzazione. Soprattutto, lo diciamo spesso ma va fatto nel presente, con azioni concrete, bisogna liberare energie giovani, come ha scritto Stefano Bonaccini nel suo programma. Aumentare l'occupazione e il prodotto lordo a beneficio della qualità della vita delle nostre comunità. Il turismo può essere un campo esplosivo per le start-up di ogni sorta, per la sharing economy e per tutte quelle iniziative di progettualità responsabile e sostenibile di cui il nostro capitale sociale è ricco a Bologna e nella nostra regione. Sono sicuro che molti giovani a questo punto in sala potrebbero alzare la mano per dirlo da loro su questo passaggio, c'è attenzione da parte nostra su questo, credo che questo sia uno dei campi principali su cui concentrare la nostra attenzione per moltiplicare l'offerta turistica, potenziare la digitalizzazione del settore, qualificare sempre più l'ospitalità anche attraverso nuove professionalità e scuole di formazione in ambito turistico, promuovere l'Italia e la nostra regione come sistema. Sono questi i temi che meglio di me, che vedranno voi protagonisti insieme ai relatori, saranno affrontati nel corso della mattinata e saranno oggetto di approfondimento nel pomeriggio con due workshop, le città e il turismo digitale e la città metropolitana e l'appennino bolognese, la promozione condivisa del territorio. Quindi nell'augurarvi buon lavoro vorrei chiudere con un passaggio per noi importante e darvi due cifre. La prima è 339.743 euro, la seconda è 7.111 sostenitori. Queste sono le cifre raggiunte dal crowdfunding civico per San Luca che nel 2013 abbiamo voluto lanciare. È stata la prima sperimentazione di raccolta fondi online per un bene culturale di tale portata. È una buona pratica che ripropongo a voi e ripropongo al ministro Franceschini per due motivi. Il primo per sottolineare che abbiamo intenzione nel campo del turismo come in tutti quelli determinanti per la vita dell'amministrazione di praticare il brand che Bologna è amministrazione condivisa, Bologna è collaborazione con i cittadini attivi. Il secondo perché fra poco vedrete un breve video di presentazione della candidatura dei portici di Bologna a patrimonio mondiale Unesco con un particolare accento al progetto di un archivio dinamico di modelli 3D dei portici fruibili dalla collettività mediante un alto grado di partecipazione trasversale in grado di trasformare la modellizzazione dei portici nello spazio e nel tempo in un'opera collettiva. Noi intendiamo convincere l'Italia che i portici sono un bene universale, un biglietto da visita per raggiungere l'importante riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Conto su di voi perché ci si possa lavorare insieme e che vogliate dopo questa giornata farvi anche ambasciatori di questo nostro obiettivo. E ancora una volta davvero grazie per essere venuti a questo convegno importante, grazie per la vostra partecipazione e un buon augurio di buon lavoro in questa magnifica città. Grazie.